Siamo qui con Pix Television per un nuovo servizio su Quando si diventa grandi. Andiamo a intervistare Massimo Bonetti e Giuseppe Milazzo Andreani. Vi potrei definire due attori che hanno deciso di fare da grandi qualche altra cosa, giusto? A me qua non mi danno sto microfono, non so perché vogliate cantare invece di parlare, però io parlo. No, è giusto quello che hai detto perché in fondo io ho sempre fatto l'attore, tranne una piccola parentesi con un mediometraggio che ho fatto qualche anno fa, però invece adesso sto portando avanti questo lungometraggio che si chiama Quando si diventa grandi e ti dico la verità è che fare il regista è molto divertente, mi piace tanto. E poi insomma non me l'aspettavo, insomma, di risolvere sul set varie situazioni con un'apparente esperienza che esperienza non è, perché comunque sì, ho esperienza di set come attore, perché ne ho fatte tante come attore, però sai, la regia è un'altra cosa. Comunque, sentiamo che esperienza c'ha come produttore Giuseppe Milazzo Andreani. Margelato? No, no, c'è il mio, grazie. No, sì, Massimo ha detto bene, anche tu, la tua domanda è molto pertinente. Io però continuo sempre a fare l'attore come lo fa anche Massimo. E questa produzione invece, questa voglia di produrre è nata circa cinque anni fa. Ho aperto insieme alla mia socia, Alessandra Carlesi, questa piccola associazione culturale nel 2004. L'avevamo aperta proprio per ritagliarci uno spazio, sia per noi attori, perché in Italia è veramente difficile fare questo mestiere, sia per dare la possibilità anche alle altre persone di lavorare e fare anche dei progetti nostri. Piano piano abbiamo prodotto tantissimi cortometraggi, anche se il cortometraggio in Italia non ha commercializzazione come lo può avere in Francia o in altri paesi purtroppo, e ahimè. Però comunque abbiamo continuato.